hola a tutti ragazzi sono il vostro luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video arrivati in questa bellissima atmosfera per parlare di una cosa importante come voi ben sapete ragazzi ormai questi video vlog così si vuol dire non li faccio con la webcam ma li faccio con questa atmosfera comunque di cosa voglio andare a parlare oggi andremo a parlare di una cosa che è successa appunto in un live sul secondo canale che ha atturbato molte persone da come avete notato dal titolo spero che non fra intende ad il titolo comunque non intendo accusare tutto lo staff di big party o il server bensì un solo staffer che si è comportato in modo molto scorretto come vedete ora eccolo qui lo screen ovviamente ragazzi se vedete il cursore andare nella visuale perché sto guardando anche io lo screen insieme a voi comunque come vedete nello screen vedete stai che è stato bannato cominciamo a dire subito questo è stato bannato vabbè uno potrebbe di luke può darsi che ha fatto qualcosa di male vabbè vediamocelo con calma allora prima cosa stai ha ucciso me perché ovviamente eravamo in squadra diverse dettagli stai ha ucciso me poi quando stai uccide crisis gravity non l'avesse mai fatto perché della squadra rossa dopo vi spiegherò perché è stato accusato di hack diciamo perché ho detto è dopo spiego la squadra rossa perché ragazzi la squadra rossa era composta da dei fighetti no i soliti buffoncelli che credono di essere i pro del pvp di essere il re di minecraft no praticamente perché facevano tutti gli atteggiati dicevano quello jack quello che rosicavano anche e comunque appunto zeta fede nel momento in cui stai è stato accusato aiutiamo staff in che senso vi spiego con calma outbox ossia il modo di che vedete ha chiesto il controllo hack a ste dopo che è uscito e ragazzi è uscito dal server perché è crashato e molti di voi lo sanno in live perché l'ho fermato me ne stavo per tirare giù un bestemmione praticamente perché appunto raga eravamo tra di noi squadre contro diciamo noi del ts quindi era anche divertente giocare però ragazzi vi spiego zeta fede crisis non sono del ts eravamo più o meno 45 sparsi in diversi gruppi comunque stavo dicendo ste è crashato e il mod ha chiesto il controllo hack dopo la cosa più orribile orribilante è che il mod scrive lol godo cosa già a prescindere poco professionale del mod seconda cosa perché zeta fede ha dovuto scrivere ti amo staff dopo anche che outbox ha detto lol godo semplicemente perché ste era rimasto l'ultimo se vedete a destra l'ultimo della squadra dei verdi che stavano attaccando di conseguenza si stava difendendo bene se così si vuol dire e probabilmente hanno rosicato che non riuscivano ad ucciderlo di conseguenza l'hanno segnalato per hack perché ragazzi c'è da dire una cosa ste dobbiamo dirlo le hack ce l'ha ok però non li stavo usando cioè ragazzi lui ce l'ha quando entra nel nostro server per cazzeggiare non poi si va a fare cose con le hack vabbè comunque ragazzi a prescindere che ce l'abbia o no in questo caso anche se ha detto che non ce l'aveva parlando in privato diciamo outbox ha sbagliato a prescindere uno perché non mi sembra un comportamento lol godo molto giusto anzi mi sembro più da bimbo minchia poi due non puoi barna barnarlo vabbè bannarlo dopo che tu gli fai la domanda mentre lui era già uscito prima ok non voglio confondermi nel senso se un player esce prima che il mod gli chiede controllo hack non hai nessun diritto di bannarlo perché tu non puoi sapere se è crashato che cacchio è successo ha chiuso minecraft comunque non puoi bannarlo perché lui non ti ha risposto al controllo hack molti dicono luke ma lui ha sloggato è ovvio che l'ha bannato no raga lo slog il ban causato allo slogamentazione che sembra lo slogamento della caviglia comunque il ban causato da quando uno esce succede quando il mod chiede prima mentre uno è online dammi i dati ma siccome se era crashato prima questo puzza molto di ban di amicizia in che senso perché ragazzi subito dopo zeta fate scrive ti amo staff e outbox si comporta un po da bimbo minchia mi sembra una cosa un po' strana perché soprattutto outbox gli ha chiesto dopo che sei uscito come se proprio perché non è che sei ucciso quella poi ne è successo più nulla saranno passati uno due minuti e poi gliel'ha chiesto una volta che è crashato questo ragazzi vuol dire appunto che era tutto d'accordo perché outbox questo qui crede che lui non è nel torto e invece lo è perché ripeto per la centesima volta se tu lo chiedi dopo che uno esce non vale più la tua richiesta di dati per controllo hack di conseguenza sei tu nel torto e l'ha bannato per rifiuto controllo hack se non sbaglio per otto giorni se non sbaglio comunque ragazzi perché sto facendo questo video per segnalare a pig party soprattutto in caso mai qualche admin founder dubito magari aiutatemi anche voi a farglielo arrivare guardassero questo video con l'obiettivo per farvi vedere appunto guardate che staff che avete no staff in generale mi raccomando perché ci sono certi che fanno il loro lavoro come si deve con professionalità senza fare bimbi minchia lol godo e ragazzi bimbi minchia non vuol dire che hanno quattro anni bimbi minchia vuol dire che hanno tre anni di cervello ok c'è nel senso forse quelli di tre anni ragionano meglio di questi perché se fanno tanti fighetti lol godo credo che non siano tanto militevoli del loro ruolo di staff principalmente mod quindi se qualcuno di big party lo sta guardando meglio così magari si rende conto è meglio buttare fuori dallo staff gente così adesso non dico outbox ma voi potreste dire luke ma perché ti schieri contro questo raga io mi sono rotto su minecraft di incontrare questi bm che per amicizie banano gente a caso perché se è banato se non sbaglio ripeto più o meno una settimana otto giorni noi volevamo giocare volevo riccare una bella badwars tutti insieme se non abbiamo potuto fare è molto potrebbe di luke vai su un altro server raga non c'entra io voglio riccare su pig party perché da un bel poco gioco alle badwars su pig party e li volevo fare però non si può fare perché appunto i bimbi minchia vanno in azione comunque ragazzi spero che il video di oggi vi sia piaciuto in tal caso lasciate like commentate condividete ma soprattutto iscrivetevi al canale ci becchiamo al prossimo video e ciao a tutti ragazzi